Buonasera a tutti ragazzi, sapete dove siamo questa sera? Questa sera siamo in provincia di Pistoia, vicino a Monte Catini Terme. Siamo a Monsumanno Terme, praticamente qua ci sono le Terme da partito. Siamo in Toscana, siamo Orellucci da ieri che siamo venuti a Pollonica. Abbiamo qua la nostra Angela che ci è venuta a provare da Firenze, benissimo, in forma sbagliante, perfettamente. E stiamo per iniziare questa serata dei single ragazzi, guardate quanti siamo nonostante sia domenica sera. Guardate che roba ragazzi, siamo un salone pieno di single, un bellissimo salone qui a Monsumanno Terme e siamo veramente tanti ragazzi, i single in tour sono sempre un successo. Benissimo, allora io lascio la diretta alla nostra cameraman, eccola qua, ciao, e prego iniziamo la serata. Signori, 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 buonasera a tutti! Un applauso, vai! Pistoia, Monsumanno, voglio sentire le mani che battono. Buonasera a tutti, benvenuti qua in questa bellissima occasion, ragazzi siete veramente tanti, grazie di essere qui, ma oggi, anche oggi, è domenica. Io vi presento, per chi non mi conosce, io mi chiamo Cene Spino, sono colui che ha inventato questo form che si chiama serata dei single ragazzi. Grazie.